Termina in gara 2 delle semifinali playoff la straordinaria avventura della B per Lanciano nella sua prima stagione in divisione nazionale B. Lanciano era chiamata ad un'impresa per cercare di portare la serie a gara 3, ma in realtà l'impresa l'ha centrata Scafate, riuscendo a rimontare in poco più di 4 minuti uno svantaggio che sembrava ormai incolmabile. Dopo un primo quarto così così terminato 13-17 la B per gioca due quarti perfetti, serra la linea difensiva, schianta l'avversario in fase offensiva concedendo solo 4 punti nella seconda frazione ai padroni del torneo e giocando un buon basket. A nulla serve il tentativo di Sorgentone di abbassare il quinteto nella terza frazione perché i ritmi del Lanciano sono elevatissimi. Il terzo periodo si chiude sul 58-34 per i locali. Poi la B per nell'ultima frazione vede la reazione di Scafate di non darsi mai per vinta. I gialloblu arrivano allo stremo delle forze. La B per spreca possessi su possessi, concede agli avversari la rimonta che culmina nel 68-71 finale. Resta l'amaro in bocca ma la squadra di coach Salvemini esce dal campo applaudita da una standing ovation dei 600 presenti. Giusto tributo per una stagione da incorniciare ben oltre ogni più rosea aspettativa.